Bella, continuando la rassegna delle pose direi di concludere con la schiena parlando del back double bicep, certi criteri di valutazione del back double bicep secondo dei canoni perfetti sono molto simili a quelli del back lat spread, poi qui ho messo un po' di foto di quelli che ritengo tra i migliori back double bicep, ho fatto anche un sondaggio su Instagram che rispecchia un po' quello che avevo già trovato però c'è stato anche qualche suggerimento utile, quindi sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno di molto buono però quelli che ritengo migliori appaiono in questa lista prima di iniziare ovviamente dico che secondo me i migliori di tutti i tempi sono stati quelli di Dorian e Ronnie Coleman però questi si avvicinano molto comunque per valutare un buon back double bicep ovviamente la schiena e i bicipiti sono l'elemento fondamentale però ovviamente bisogna guardare la posa nella sua completezza, quindi con tutti i muscoli che si vedono dalla testa ai piedi quindi partendo da sopra ovviamente rispetto al back double bicep e al back lat spread si vedono anche bene le braccia quindi avere delle buone braccia è un'ottima cosa partendo dalle spalle è sicuramente un punto in più il fatto che si vedano distintamente tutti e tre i deltoidi quindi posteriore, laterale, anteriore che il trapezio sia ben visibile che i bicipiti abbiano un buon picco poi anche gente che non ha degli ottimi bicipiti tipo come la Dorian Yates riusciva a farlo abbastanza bene nelle pose posteriori quelle frontali un po' meno quindi i bodybuilder che hanno un bicipite più corto che gli consente di avere un peak più accentuato sono avvantaggiati e penso che ne so a Avion Hensley, soprattutto a Kai Green poi in questa posa si devono vedere anche bene i tricipiti quanto più uno ha dei buoni tricipiti meglio è e anche avambracci e bracchiale poi nella schiena più dettagli si hanno, come sempre sono punti a favore più i muscoli sono separati meglio è e molta gente che ha magari una parte superiore buona magari ha delle lacune nella zona inferiore quindi nella zona dei lombari molto spesso non non stupiscono e parlo che nessuno anche di un Rolly Winkler che se ci fermiamo dal trapezio è perfetto poi dal trapezio in giù non è niente di che o Sean Roden per dire uno o anche Dennis Wolf senza andare troppo indietro nel tempo non è incluso in questa classifica gente troppo vecchia diciamo della golden era perché seppure avessero degli ottimi back double bicep i canoni di valutazione sono troppo diversi rispetto a quelli odierni quindi poi scendendo è un'ottima cosa avere dei glutei ben definiti magari anche con delle striature e poi scendendo ancora un po' i femorali devono essere ben visibili definiti magari anche separati con molti dettagli e poi anche i polpacci non sono mai una cattiva cosa anche se comunque sono meno importanti in generale in tutte le pose c'è gente che non ha grossi polpacci comunque ha fatto molto bene anche un Dennis Wolf comunque ha vinto l'Arnold Classic e o Dexter Jackson che ha vinto il Mister Olimpia miliardi di Arnold Classic quindi tutti questi sono gli aspetti fondamentali per un ottimo Back Double Bicep tra i primi secondo me importanti in questa posa direi Samir Banu Mister Olimpia 83 che aveva aggiunto un livello di definizione di separazione e di muscolarità proprio alla posa se vi guardate Arnold comunque non era così denso di schiena nel Back Double Bicep forse una delle sue pecche può essere questa ma comunque ripeto che sono dei canoni di valutazione completamente diversi ho anche l'Ienei ottimo l'Ienei forse è uno dei migliori bodybuilder se non il migliore perché io non riesco a trovargli dei difetti fatemi sapere che ne pensate di di questa posa chi secondo voi la fa meglio di tutti e anche e soprattutto aggiungete nomi che non ho incluso perché credo di essere stato abbastanza esaustivo secondo me questi sono tra i migliori che mi ricordano a memoria cioè memoriamente però sicuramente ce ne sono altri che mi sono sfuggiti un'altra cosa importante secondo me è dire che molta gente che ha un buon Back Double Bicep non sempre ha un buon Back Lathbed mi viene soprattutto in mente Kai Green il cui Back Lathbed non è niente di che e anche altri che hanno un buon Back Double Bicep ma non un buon Back Lathbed fatemi sapere buona Grazie a tutti